C'erano tutti i vecchi amministratori e i sindaci che in questi vent'anni l'hanno vista nascere e crescere, ma anche gli attuali dipendenti e quelli andati in pensione. È stata una cerimonia sobria, ma molto sentita, quella organizzata a Palazzo Bernardini per festeggiare i vent'anni della GEAL, l'azienda che gestisce il servizio idrico a Lucca. Azienda sana ed efficiente, hanno sottolineato le istituzioni chiamate a parlare, l'esempio migliore di un'impresa pubblica partecipata. E per il futuro, ha annunciato il presidente Giulio Sensi, ci sono progetti importanti. Negli ultimi vent'anni abbiamo fatto 40 milioni di euro di investimenti, per i prossimi dieci anni abbiamo messo nel piano 44 milioni di euro. Riusciremo a farlo grazie al fatto che oggi le tariffe coprono anche gli investimenti, grazie al fatto che GEAL insieme all'amministrazione comunale ha messo in priorità, come intervento prioritario, la risposta all'infrastrutturazione del territorio che manca, che è quella della copertura fognale in alcune zone. Detto questo, continuiamo a investire ancora nell'acquedotto. L'acqua è un bene di Lucca, un bene importantissimo, un bene di cui Lucca è ricca, ma che possiamo anche in questo senso valorizzare, grazie anche al fatto che GEAL esporta, tra virgolette, acqua, cioè vende acqua a territori di Pisa e Livorno. Questo è un elemento suo di forza molto importante. Attualmente i lavori stanno procedendo sulla via Morianese, a Vicopelago e a Saltocchio. Nei prossimi cinque anni saranno 15 i milioni investiti, con priorità sull'oltreserchio, il prolungamento di via per Sant'Alessio e il collegamento Nozzano-Pontetetto.